carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del catechismo di san pio decimo giunta all'ultima sezione del catechismo abbiamo inaugurato la volta scorsa appunto la sezione dedicata alla vita di grazia in particolare la prima parte i sacramenti che stiamo ancora studiando nella dimensione generale mi sono fermato volontariamente perché eravamo in dirittura di arrivo all'ultima diciamo così agli ultimi quattro numeri sui sacramenti generali che sono di importanza però capitale prima di poi cominciare l'analisi del sacramento del battesimo quindi rivediamo subito appunto perché sono ripeto di importanza assolutamente capitale cominciando dal 286 oggi facciamo partiamo subito di corsa senza fare troppi preamboli così ottimizziamo i tempi numero 286 attenzione attenzione quante cose si richiedono per fare un sacramento per fare un sacramento si richiedono tre cose la materia la forma e il ministro il quale abbia l'intenzione di fare ciò che fa la chiesa allora nei tre numeri successivi approfondisce materia forma e ministro che sono proprio i tre costitutivi evidentemente il ministro deve avere intenzione di fare ciò che fa la chiesa questo è un punto fondamentale ed è anche un po' una crux interpretum perché è opinione prevalente che l'intenzione di fare ciò che fa la chiesa è sottintesa e è dogma di fede attenzione che la fede del sacerdote in quello che fa è del tutto irrilevante cioè se un sacerdote celebra la messa e non ci crede se usa pane azimo è sacerdote e usa le parole della forma del sacramento alla messa la celebrata l'unica difficoltà potrebbe esserci se avesse un'intenzione esplicita di non voler fare nella messa ciò che fa la chiesa diciamo così il caso più classico quello che si trova anche nel libro di santa caterina da siena il diavolo di lina provvidenza lei parlava di quei sacerdoti che fanno vista di consagrare e non consacrano io la prima volta che l'olessi dice ma che significa dopo ho capito quando ho conosciuto la messa e rito antico nella messa e rito antico le parole della consagrazione non sono pronunciate ad alta voce per cui se un sacerdote non le pronuncia proprio il sacramento non c'è tanto sta zitto quindi questo è il caso non molto attinente però il problema è l'intenzione di fare tutt'altro facciamo un esempio paradossale assurdo speriamo che sia assurdo su un sacerdote sapete che la chiesa quando celebra la messa ha intenzione di offrire a Dio l'unico sacrificio a lui gradito che è il sacrificio incluento appunto del pane e del vino consacrati che attualizza e ne applica i frutti dell'unico sacrificio della croce sponiamo che adesso un sacerdote ci avesse l'intenzione di rinnovare l'ultima cena fosse proprio convinto quindi che volesse dire no la messa non è un sacrificio quindi io non voglio celebrando la messa fare quello che fa la chiesa ma quello che ho dentro la testa mia in questo caso ci sarebbe qualche problema però non è caso di approfondire troppo questo punto perché sapete che all'interno delle persone questo è un caso evidentemente straordinariamente raro noi possiamo e dobbiamo stare tranquilli in base alla sana dottrina cattolica che se vengono rispettate adesso lo vedremo le condizioni di materia e di forma del ministro il sacramento è valido io adesso non ricordo se il catechismo di San Pio X mi sa di no dedica una sezione in tal caso lo faccio io perché è molto importante questo adesso vediamo i tre punti a distinguere tra la validità di un sacramento la liceità di un sacramento e l'efficacia o fruttuosità di un sacramento sono tre cose distinte molti fedeli scambiano l'invalidità con la scarsa fruttuosità e non lo devono mai fare questo errore allora andiamo per ordine e cos'è la materia del sacramento materia del sacramento è l'elemento sensibile che si richiede per farlo come l'acqua nel battesimo ogni sacramento abbiamo visto l'oltre scorsa è sempre un elemento sensibile vedremo nel catechismo di San Pio X mano a mano che si fanno i sacramenti quale è la materia domanda che la propongo adesso difficile e nel sacramento della penitenza qual è la materia attenzione che se la materia non è quella giusta il sacramento non c'è se anziché l'acqua io uso per battezzare una persona la coca cola d'accordo il sacramento non c'è non c'è non l'ho battezzata se invece del pane azimo uso il pane di farina normale non azimo quello non ci diventa corpo di Cristo chiaro? e qual è la materia del sacramento della penitenza? lo vedremo poi adesso lascio la provocazione perché se no ma attenzione teniamo presente se la materia non c'è il sacramento è invalido lì non c'è proprio attenzione solo quando la materia non c'è che cos'è la forma del sacramento? la forma del sacramento sono le parole che il ministro deve proferire nel lato stesso di applicare alla materia io ti battezzo nel nome del padre questo è il mio corpo questo è il carice del mio sangue per la nuova di eterna alleanza eccetera eccetera la forma del sacramento è rigida è chiaro che il sacramento ha una forma essenziale per esempio per la confessione le parole essenziali sono io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo la formula nuova sia la formula nuova che la formula antica se Dio padre di misericordia che riconcidasse il mondo allora non è che può essere omessa così deve essere detta d'accordo? ma se non è detta basta che ti dico che ti assolvo dai tuoi peccati il sacramento è invalido in certi casi per esempio quando c'è necessità urgenza per esempio si può anzi si deve ricorrere alla forma breve ed essenziale ok? quindi questo bisogna saperlo mano mano che vedremo i sacramenti vedremo qual è la forma essenziale perché federe c'ha anche la possibilità che ha il diritto di verificare che un sacramento sia celebrato in maniera corretta e infine il ministro chi è il ministro? è la persona capace che lo fa o lo conferisce in nome e per autorità di Gesù non di tutti i sacramenti il ministro è il sacerdote per esempio del battesimo vedremo il ministro ordinario del sacerdote ma il ministro straordinario sapete che c'era un ministro straordinario del battesimo oggi si parla dei ministri straordinari solo della santa comunione che è un'invenzione recente una volta non c'erano ma il ministro straordinario del battesimo l'ho sempre stato sapete qual è il ministro straordinario del battesimo voi che mi state ascoltando siete tutti i ministri straordinari del battesimo tutti ma addirittura i pagani sono ministri straordinari del battesimo lo vedremo poi del matrimonio tutti pensano che il ministro del matrimonio sia il sacerdote che celebra il matrimonio non è così il sacerdote assiste al matrimonio ma i ministri del matrimonio sono gli sposi e infatti il matrimonio è nullo le famose sacre erote che se si potessero le cose soluziare dovrebbero andare in pensione non perché il sacerdote non ha celebrato bene il matrimonio ma perché c'è qualcosa che non funziona al momento dello scambio del consenso tra gli sposi solo in quel caso il matrimonio è nullo perché c'è un difetto nella forma o nei ministri che non intendevano fare quello che la chiesa intende nel sacramento del matrimonio questo è un altro esempio molto molto calzante più di quello che ho fatto prima quando è con matrimonio è nullo per esempio se uno dei due coniugi esclude la volontà di avere figli dal matrimonio è nullo il matrimonio perché se è nullo perché il ministro sta escludendo di fare ciò che fa la chiesa nel sacramento del matrimonio perché il matrimonio ha tre fini primari la procreazione l'unione degli coniugi i di compresa l'indissolubilità e il rimedio e il rimedio in concupiscenzi che fa sì che il corpo della moglie appartiene al marito e il corpo del marito appartiene alla moglie e non ci si può astenere l'uno dall'altro se non di comune accordo perché c'è anche questo aspetto nello stato di natura decaduta se uno di questi tre manca il matrimonio è nullo perché uno degli sposi non aveva l'intenzione di fare ciò che fa la chiesa nel sacramento del matrimonio bene andiamo avanti detto questo apriamo il capitolo battesimo allora qui ce ne saranno molte cose belle allora che cos'è il battesimo numero 290 il battesimo è il sacramento che ci fa cristiani cioè seguaci di Gesù Cristo guardate che bello figli di Dio e membri della chiesa boom cristiani seguaci di Gesù Cristo si si dovrebbe dire non solo del sacerdote ogni tanto si sente dire che il sacerdote è alter Christus si in un senso del tutto più peculiare e particolare è alter Christus nelle funzioni diciamo così pubbliche e salvifiche di Cristo che solo il sacerdote ministeriale ha quindi perché lui può predicare ovviamente il Vangelo può amministrare i mezzi di salvezza d'accordo è un santo sacerdote quindi uno che predica santamente amministra i sacramenti santamente e governa le anime affidate con con spirito paterno quindi come un padre quindi con dolcezza ma anche con autorità è questo è un grande dono ma ogni cristiano è un alter Christus perché perché eccelle nelle virtù che impara dal suo Signore tutte anche il cristiano è un alter Christus in quanto battezzato poi figli di Dio San Paolo dice San Giovanni quale grande amore ci ha dato il padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo non ci pensiamo e lo siamo realmente chi osa San Giovanni Apostolo nella lettera in cui scrive queste parole lo siamo realmente ma proviamo a chiudere gli occhi un attimo a pensare ma capito che significa figli di Dio io i figli reali non ce l'ho però insomma non è che sono proprio uno sciocco i figli e i genitori li assomigliano se uno vede le foto c'è chi dice che io sono la fotocopia di mio padre c'è chi dice che assomiglio un po' anche a mia madre i figli assomigliano ai genitori sia per fattezze esteriori poi noi oggi sappiamo i cromosomi sono 23 23 e attenzione a essere figli di Dio scusate un figlio umano ce l'ha un padre e una madre giusto? sapete che uno degli adagi molto cattolici non può avere Dio per padre chi non ha Maria per madre noi siamo la nostra vita cristiana dovrebbe essere una fusione tra i i mistici spirituali chiamiamoli così mi perdoneranno dal cielo cromosomi di Dio padre e di Maria santissima un po' come è stato nostro signore Gesù Cristo no? che lì ci stanno i cromosomi di Maria ma poi ci stanno i cromosomi dello spirito santo c'è sta poco da fare quindi ma figli di Dio vuol dire che li assomigliamo e se uno guardate che se uno scoprisse e meditasse bene sulla dignità di figlio di Dio ma non si abbasserebbe mai a fare certe cose ogni peccato ogni mancanza è una degradazione dell'uomo cioè c'è un senso sacro della nostra dignità riconosci cristiano la tua dignità una bellissima predica di San Leone Magno sul Natale tu non ti puoi abbassare a certe bassezze io mi metto a insultare il prossimo per esempio mi abbasso a fare questa cosa ma non la farò mai mi abbasso ad un linguaggio da scaricatore di Porto ad un linguaggio volgare scurrile io figlio di Dio ma manco morto io mi abbasso a vedere certi degradanti spettacoli alla scatola del diavolo ma manco morto io mi abbasso ad andare in giro conciato in maniera sciatta scellerata volgare indegna indecente ma manco morto io mi abbasso io mi abbasso ad andare in spiaggia a ostentare ma manco morto cioè nella scoperta della dignità dei figli di Dio mo 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 che estate fatemi ci mettere qualche provocazione sapete che intanto movimentiamo un po' voi sapete che una volta essere abbronzati era il distintivo dei cafoni cioè le persone come dire che ci tenevano un certo status non si mostravano mai abbronzate perché era proprio un segno era il segno del cafone tanto per dirne uno adesso comunque questa è una battuta non è che un figlio di Dio non è abbronzato quindi voluto dire una battuta però nel senso la nostra dignità di figli adottivi il peccato degrada io per esempio figlio di Dio fumo come un turco cioè degrado la mia dignità alla dipendenza da una cosetta che se non ce l'ho sclero perché io purtroppo confesso sono un molto ex peccati di gioventù fumatore ma io non ricordo adesso che ci ripenso è una degradazione ma è possibile che io devo andare a condizionare la mia vita alla sigaretta che se un giorno ai tempi miei ha chiuso il tabaccaio che quando ero piccolo io non era come un muo ci stavano le macchinette le cose se erano chiusi il tabaccaio hanno chiusi il tabaccaio e io devo sclerare se non mi sono finite le sigarette perché se no esco pazzo perché non posso fumare ma io una cosa del genere non non lo può fare un figlio di Dio che abbia riscoperto non lo accetta mi degrado con la gomma ubriaco no io non andrò mai in giro ubriaco a perdere le mie facoltà o cose di questo genere nella vita sessuale sarò sempre ordinato non mi vado a degradare a spossare in porcherie innominabili non lo faccio capite quanto è importante la riscoperta della dignità dell'essere figli di Dio non si possono fare cose indegne di Dio guardate che è importantissima questa cosa qui dovremmo meditarla notte e giorno e giorno e notte e poi membri della chiesa ricordiamo sempre che la chiesa è una santa cattolica e apostolica è una e la chiesa di Cristo che è la chiesa cattolica si chiarisca bene tutti quanti le laparotomie moderne del sussiste nella è la chiesa cattolica sta lì a prescindere da chi ne fa parte questo sia sempre ben chiaro fino a quando siamo in questo mondo scriveva Sant'Agostino purtroppo nel corpo ecclesiale sono anche presenti delle metastasi cioè della gente chiamarla gente è già un eufemismo che non c'è niente a che fare con la chiesa di Cristo però purtroppo ne fa parte fa parte del corpo visibile terreno della chiesa niente di cui stupirsi se si guarda il collegio apostolico Giuda era uno dei dodici tra l'altro quindi non era un membro secondario della chiesa ma Giuda era un vescovo sapete che Giuda era vescovo perché Gesù ci è rimasto poco vescovo per qualche ora ma era un vescovo perché sono stati proprio formalmente ordinati i vescovi durante l'ultima cena già costituendo gli apostoli insomma il Signore aveva già stradati per quella via Giuda faceva parte del gruppo apostolico ha fatto i miracoli sicuro ha predicato sicuro ha rascacciato qualche diavolo ma questo un po' più di non lo so se c'è avuto qualche periodo tranquillo quindi non ma essere membri della chiesa perché in paradiso c'è la chiesa in paradiso non entra chi non è membro della chiesa o chi non è stato membro del corpo della chiesa o chi pur non avendo avuto la grazia e la possibilità concreta di entrare nel corpo visibile della chiesa ne ha fatto parte con il cuore vivendo per come può per come per come sapeva e per come poteva ascoltando i dettami della propria coscienza e quindi sotto questo punto di vista per quel poco che riusciva conformandosi alla volontà di Dio ma in paradiso non ci sono in paradiso c'è la chiesa che è un corpo pure gli angeli fanno parte della chiesa intesa in questo senso la famiglia di Dio la chiesa è la famiglia di Dio non volendo usare termini troppo aulici si è il corpo mistico di Cristo è il popolo di tutte le categorie ho fatto il dottorato sulle decresiologie quindi potrei stare a parla una settimana ma la cosa più bella anche più è la famiglia i figli stanno in famiglia stanno fanno parte di una famiglia è molto bello quando questa realtà profonda della chiesa diventa in qualche modo percepibile quando si formano delle comunità cristiane dove questo senso di famiglia comincia un pochino a percepersi anche con l'amore che circola io ho saputo il sogno di poterlo costruire in parrocchia che cosa posso dire che diciamo così qualche piccola esperienza di chiesa a livello parrocchiare si fa in quei pochi purtroppo che si lasciano un pochino formare plasmare e quindi si avvicinano un po' e quindi cominciano un po' a dare forma a questa cosa purtroppo con la grande maggioranza dei fedeli almeno per quanto riguarda la mia esperienza probabilmente non sarò buono a fare il parrocco oltre alle molte altre cose che non so buono a fare non non si riesce a come dire ad allargare questa dimensione ci sono aperte per me anche le prospettive come dire multimediali io spero tanto che le persone tra virgolette che vogliamo dire mi ascoltano ecco io sto già in imbarazzo a a dire che devo che che devo essere ascoltato sperando sempre che attraverso di me nostro signore faccia uscire qualche cosa di buono e di edificante però l'essere una famiglia io per esempio questo cerco di metterlo in pratica quando chi mi conosce lo sa a commenti pubblici a posto a video o anche al canale telegram qui questa catechese in diretta niente cose offensive ma niente cose brutte da queste quante cose arrivano anche quanti vomitamenti contro certi membri della chiesa io non le approvo queste cose qui ma non è che non le approvo perché uno deve tapparsi gli occhi perché tutti le vedono non c'è bisogno di sbandierarle 4 venti le vediamo ci preghiamo sopra cerchiamo di fare quello che possiamo perché sarà nostro signore cioè nostro signore si riserva di ripulire la sua aglia non dobbiamo farlo noi noi dobbiamo fare quel poco che possiamo per rendere comunque sia la chiesa che è casa nostra una dimora una dimora abitabile e dare vita possibilmente a sane e sante esperienze di chiesa questo è quello che possiamo fare il resto lo fa nostro signore quindi dentro una famiglia ci deve essere un sacrosanto rispetto per il padre di famiglia ma anche tra i fratelli tra di loro e il padre e famiglia sai come si cerca che da un indirizzo alla famiglia perché queste regole siano rispettate vabbè comunque stiamo adesso andando però questo per dire seguaci di Cristo figli di Dio membri della chiesa sono tre titoli ma dovremmo già stanotte non dovremmo dormire cioè chi ha ascoltato questa catechesi in diretta stanotte non deve dormire deve stare in sott'anno seguaci di Cristo cristiano ho avuto la grazia di poter conoscere gli insegnamenti del figlio di Dio fatto uomo oggi alla pesta da San Cirillo da Alessandro dicevo durante un'omiglia di questa sera quell'eretico del vescovo Nestorio vescovi eretici ci sono sempre stati Nestorio era un vescovo San Cirillo gli ha fatto la terza guerra mondiale si narrano anche di scontri molto accesi tra lui e Nestorio faceva un ragionamento molto semplice ma scusa ma Gesù Cristo non è Dio o no Gesù Cristo è Dio e di chi è figlio di Maria ma se Gesù Cristo è Dio la Madonna è madre di Dio ciò la scienza infusa perché ha visto la cosa perché se tu dici che non è madre di Dio vuol dire che Gesù Cristo non è Dio non è veramente Dio adesso parliamo di questo qui però questo per far capire come nei dogmi mariani è sempre come dire inserito in maniera inestricabile il dogma cristologico per questo che la Chiesa è la difesa vabbè comunque torniamo al suo battesimo se no qui facciamo notte fonda qual è la materia del battesimo lo sanno tutti l'acqua naturale o l'acqua naturale quindi qua ci sarebbe da tipo di dubbità se può fare il battesimo con l'acqua frizzante ma qualche dubbio mi verrebbe acqua naturale ok vedete di per sé di per sé non è indispensabile che sia benedetta perché in caso di necessità si può usare l'acqua naturale l'acqua naturale manco benedetta anche se ordinariamente vedete questa non è una cosa ad validitatem se non c'è l'acqua santa non posso fare il battesimo no si può fare e la forma del battesimo questo imparatevela perché se vi dovesse capitare di avere la necessità di battezzare un bambino dovete sapere specialmente medici ostetici che lavorano in ospedale perché anche se non si usa più se un bambino è in pericolo di vita bisogna battezzarlo e la forma del battesimo è molto semplice io ti battezzo nel nome del padre e del figlio dello spirito santo quella che ha detto a Gesù nel Vangelo andate in tutto il mondo ammaestrate tutte le nazioni e battezzateli nel nome del padre e del figlio dello spirito santo la formula che si usa per i sacramenti è sempre io non perché lo stai battezzando tu ma perché nell'atto di amministrare un sacramento è Gesù che opera attraverso il ministro a proposito di queste cose qui non faccio il nome ma nei giorni scorsi ho avuto modo di leggere speriamo che il senso con cui sono state dette erano differenti delle considerazioni di un insigne membro della chiesa che sproloquiava sul fatto che usare la prima persona nell'amministrazione dei sacramenti sarebbe come dire una bugia io ho steso un velo pietoso ovviamente non farò mai il nome ma questo è proprio ABC che in un primo ciclo di studentato di teologia l'ultimo dei preti dovrebbe aver imparato ma vabbè comunque sicchest che dobbiamo chi è il ministro del battesimo abbiamo già visto il ministro del battesimo 293 è d'ordinario il sacerdote ma in caso di necessità può essere chiunque sentite anche un eretico o un infedele sentite che terminologia usa il sacramento il paracadismo sappio decimo oggi questa terminologia è assolutamente bandita immaginate se qualcuno dissesse anche un eretico o un infedele giorno dopo sta in curia 100% chiamato o su tutti i giornali locali e forse pure nazionali vedete come cambia nei tempi comunque eretico infedele vuol dire uno che fa parte che è protestante d'accordo tanto per dirlo perché o che infedele vuol dire che non è battezzato un musulmano può battezzare? sì sì deve dire io ti battezzo nel nome del padre del figlio e del figlio e del figlio e del santo e semplicemente avere un'intenzione generica non specifica perché lui non sa quello che farà di fare quello che fa la chiesa e il sacramento è valido perché questa disciplina del tutto eccezionale per questo sacramento perché anche se oggi non tutti ci credono e molti anche tra i fedeli non ci credono più perché non fanno battezzare i figli il battesimo è ordinariamente indispensabile alla salvezza ordinariamente significa che non è impossibile per un non battezzato salvarsi ma è molto difficile e quindi ordinariamente per avere la salvezza bisogna essere battezzati ovviamente quando si è cresciuti e se si battezza un adulto il battesimo è condizione necessaria ma non sufficiente perché poi devi comportarti da cristiano basta essere battezzati ma comunque è necessario e per un bambino è indispensabile come si dà il battesimo il battesimo si dà versando l'acqua sul capo del battezzando e dicendo nello stesso tempo le parole della forma tanti anni fa questo ve lo dico perché ci fu riportato ad un'assemblea pubblica del clero delle raccomandazioni non mi ricordo se provenienti dal vescovo o addirittura dalla santa sede questo chiaramente non è cosa che mi riguarda ma riguarda certi ambienti o diciamo anche telefonata quando si amministra il cosiddetto battesimo questa è un'altra novità degli ultimi 50-60 anni per immersione dei bambini allora devi trovare il modo che l'acqua gliela devi mettere pure un po' in testa quindi se lo immergi in attimo lo devi in me oppure faglie lambire la testa in qualche modo io non lo so come fanno cioè ma l'acqua deve andare qua capite perché se tu lo immergi da tutte le parti ma la testa rimane fuori quello non è battezzato non è un opzionale questo qui perché i sacramenti devono essere celebrati in un certo modo io per esempio non è che posso adesso immaginate se adesso me ne vado di là prendo quattro ostie e un po' di vino con l'acqua interrompo la catechesi e dico questo è il mio corpo e questo è il mio sangue ma mica si può fare questa cosa qui non è che io posso mettere un affalmatto cioè ad amministrare i sacramenti sì ci mi ha usato la formula sì hai usato la formula ma tu quella formula vale in un contesto liturgico cioè io devo celebrare una messa non è che posso che me ne vado di là prendo il pane e il vino e faccio come mi pare se può quindi il battesimo d'accordo la forma e l'acqua e il ministro ma deve essere amministrato in questo modo quindi l'acqua deve stare sulla testa quali effetti ma se uno ci avesse il dubbio che perché a me è successo ma contattato qualcuno e diceva guarda che mi sa che è mio figlio l'ho fatto battezzare per immersione ma quello e la testa gli ha lasciato fuori dico ma sei sicuro al 100% ti ricordi bene 100% in quel caso certamente bisogna coinvolgere ufficialmente gli organi quindi adesso prima parlarne col parruco eventualmente che senti il vesco eccetera eccetera ma potrebbe essere il caso se è stata fatta una cosa del genere di amministrare quello che si chiama il battesimo sotto condizione si chiama così io non sono un canonista non mi imbarco in queste cose però queste cose le so che significa? significa che il battesimo non si può ripetere come sapete si può fare però una cosa dare il battesimo sotto condizione cioè è come quando uno non ha certezza non sa perché magari sono perduti i documenti oppure i genitori sono morti non se lo ricordano se è stato battezzato o no allora la formula che si usa in quel caso da parte del ministro è se non sei stato battezzato io ti battezzo nel nome del padre del figlio dello spirito santo si chiama il battesimo sotto condizione cioè se è stato battezzato non produce nessun effetto e non si ripete il battesimo se non è stato battezzato produce l'effetto del battesimo che purtroppo o è stato mal amministrato o non è stato affatto amministrato spero di essere stato chiaro su questo punto che insomma ripeto non sono un canonista c'è pure un pochino di allergia insomma nonostante che in che i miei studi civili siano stati la legge però qui funziona così comunque adesso sto scherzando ma la legge capite che pensate se non ci fossero le leggi che determinano le condizioni di validità dei sacramenti sarebbe proprio un guaio no? e quali effetti produce il battesimo? ah adesso qui mettiamoci seduti uno conferisce la prima grazia santificante e le virtù soprannaturali la grazia santificante la grazia santificante è il nostro vestito celeste il nostro abito nuziale ricordate la parabola evangelica tu che stai a fare qua senza l'abito nuziale aria qui non si entra senza l'abito nuziale l'abito nuziale è la grazia santificante che è il motore e la causa di ogni buona opera meritoria al cospetto di Dio che noi possiamo compiere se non c'è la grazia santificante le nostre opere non sono meritorie davanti a Dio neanche quando fossero oggettivamente giuste le virtù soprannaturali cioè audite audite la fede la speranza e la carità che rimando per approfondimento e al necico di catecati su vizio e virtù per chi volesse ma la fede la speranza e la carità sono qualche cosa di spettacolare e tutti quei battezzati che se le pestano e se le mettono sotto i piedi che poi vengano a dire ah padre beato lei vorrei averci la sua fede e dico scusa una cosa abbi pazienza non è che la fede che ho ricevuto io il giorno del battesimo è diversa da quella che hai ricevuto tu non è che si riceve a chili cioè io quando sto battezzato ho preso 10 chili di fede e quindi per carità invece tu 100 grammi no funziona così è chiaro che se tu vai crescendo te le metti sotto i piedi eh non va la fede l'hai persa se l'hai voluta perdere non perché non ce l'hai tu ce l'hai se sei stato battezzato ce l'hai avuta puoi recuperarla ma non è beato a te per la fede che c'è non è beato a te è la stessa che c'hai anche tu l'unica cosa è che bisogna custodirla se la possiamo mettere sotto i piedi comunque la prima grazia d'antificante è le virtù soprannaturali toglie il peccato originale peccato originale il peccato originale è l'orrore assoluto essere macchiati dal peccato originale è l'orrore assoluto la gravità del peccato originale non c'è mente umana che la possa comprendere io credo nella sua profondità Gesù ha sofferto ed è morto al 99% mi tengo basso per il peccato originale all'1% per tutto il resto la tragedia delle tragedie è questa quindi il peccato originale prima si toglie meglio è non solo toglie tutti i peccati attuali attuali vuol dire capito la differenza dal peccato originale al peccato attuale il peccato originale è quello dei nostri progeditori che noi riceviamo il peccato attuale è quello che commettiamo noi con la nostra libera volontà appena diventiamo capaci di uso della ragione può essere grave se la materia è grave o lieve se la materia è lieve mortale quando siamo alla materia grave è accompagnato da piena avvertenza deliberato consenso quindi gli attuali se vi sono con ogni debito di pena per essi dovuta un bambino battezzato prima che abbia l'uso della della ragione è una delle due categorie di persone di cui si può affermare con certezza anche senza il processo di canonizzazione che stanno in paradiso bambini battezzati e martiri o di tutti gli altri non si può cioè anche le cose dette di Giovanni Paolo II santo subito ma santo subito di che? di cosa? con tutto il rispetto per Giovanni Paolo II di cosa? chi l'ha detto santo subito? chi lo dice? chi te l'ha detto? che ne sai tu che ci stanno nella coscienza di quell'uomo? che ne sai se tutto quello che ha fatto davanti a Dio durante 27 anni di pontificata è tutto quanto perfettissimo e senza macchia? ma come fai a dire una cosa del genere? queste sono le classiche trovate a effetto multimediatiche emotive della nostra strana società quindi un bambino battezzato un martire va in paradiso per direttissima il resto lo lasciamo decidere al nostro signore e a Santa Madre Chiesa dopo i processi di canonizzazione questo per evitare che si continui ad assistere a funerali dove ci sta la canonizzazione fatta dal sacerdote che sarà stato nominato contemporaneamente promotore delle cause dei santi e avvocato del diavolo e papa che firma il decreto di canonizzazione quell'anima di questo defunto che sta in paradiso e chi te l'ha detto a te? ti ha scritto perché c'è il figlio diretto con lo spirito santo in tante situazioni in cui io sarò rigido sarò esagerato sarò retrogrado io tante volte quando c'è il funerale dico signore mio mi faccio signore della croce speriamo non aspetta a me giudicare che sta persona sia salva però io so dieci anni cinque anni che so sta parrocchia un'altra volta gravedo so due anzi non manco mai vista perché dentro la bara non so manco come è fatto togliendo il peccato originale gli attuali se vi sono con ogni debito di pena per essi dovuta e poi attenzione imprime il carattere di cristiano indelebile perché nel battesimo si è assegnati con il sacro crisma qui sopra la fronte il segno del crisma anche qui spero che va fatto qui sulla testa un po' sotto la fontanella come qui lo simulo quello lascia un carattere un segno che non si toglierà mai più a voglia quelli dell'unione come si chiamano degli ate degli agnostici razionalisti a fare le dichiarazioni di sbattezzo quello non te lo toglie nessuno non si può togliere il che non significa che l'atto di sbattezzo è un peccato gravissimo contro lo spirito santo per il quale io non ho il potere di sostituirmi all'altissimo ma modestamente e dalla e dalla mia povertà sacerdotale non ho capacità di immaginare quale tipo di penitenza si possa fare per essere perdonati di un affronto così grave perpetrato contro la divina bontà e contro le pene e le sofferenze di nostro signore il carattere quel carattere resterà impresso per tutta l'eternità aver ricevuto il battesimo è un dono immenso pochi santi l'hanno preso sul serio san luigi maria monforto quando parla del trattato della vera devozione della santa schiavitù d'amore della devozione una madonna sapete cosa dice è un modo per vivere in pienezza il nostro battesimo tu si consacrato al signore in quanto battezzato col crisma si ungono le cose che vengono consacrate a dio io dico sempre chiunque mi ascolta se è cresimato ha due segni indelebili nell'anima uno sulla fronte e uno sulla testa il segno di cristiano è il segno di soldato capito che siete soldati soldati milites io ne tengo altri due sulle palme della mano destra e sinistra e io ci credo che questi funzionano perché io ci credo che quando impongo le mani o quando benedico succedono miracoli ci credo e come imprime il carattere di cristiano e rende capace di ricevere gli altri sacramenti noi possiamo ricevere i sacramenti perché siamo battezzati se una persona ahimè non è battezzata e muore non gli si possono fare funerali lo sapete no? mi è capitato qualche volta perché c'è qualche situazione di persone che non sono battezzate e per vivere in un contesto non gli puoi fare il funerale a pagano non gli puoi fare il funerale in chiesa numero 296 sentite che bello non ce la facciamo a fine di lo stasera il battesimo mi sa di no? pazienza non teniamo fretta il battesimo trasforma l'uomo che pensate voi? il battesimo trasforma l'uomo di più risposta il battesimo trasforma l'uomo nello spirito e lo fa come rinascere rendendolo un uomo nuovo Gesù nel Vangelo Gesù non parla a vanvera come noi chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio e non lo può vedere discorso con Nicodemo Giovanni 3 rinascere dall'alto è una rinascita diventiamo uomini nuovi e donne nuove ovviamente perciò allora gli si dà un nome conveniente quello di un santo che gli sia di esempio il protettore nella vita di un cristiano oggi vi assicuro che questo è un altro segno dei tempi che si sentono certi nomi di battesimi cioè io dico io ancora lo dico dico ma hai controllato se si sta in santo con questo nome no non esiste dico allora o te ne trovi un altro perché al battesimo si possono anche aggiungere i nomi oppure non si può battezzare perché mica può battezzare col nome di uno che non è un santo speriamo se gli dà il nome alternativo che il primo santo che ci avrà questo nome sarà questo però un nome del santo ce lo riaggiunge che la scelta del nome di battesimo se il nome di battesimo noi sappiamo che il libro dell'apocalizia ci dice che noi abbiamo un nome nuovo il mio nome io non lo conosco non lo conosce né mio padre né mia madre è il tuo nome di chi mi sta ascoltando tu non lo conosci lo conosce Dio soltanto tu lo conoscerai se va in paradiso perché i dannati non lo conoscono mica il loro nome nuovo non lo sanno chi sono altra tragedia oltre a tutte le altre della della dannazione ma il nome è importantissimo e io ricordo sempre perché mia madre mi ha fatto sto regalo e l'ha imparato da mia nonna che la la sana e santa tradizione di mettere più nomi di battesimo va mantenuta tutti quanti mi conoscono come Dio Leonardo Maria Pompei io non mi sono messo il nome di Maria come si può e anzi è raccomandabile fare solo perché ho fatto la consagrazione totus tus ormai 25 anni fa sapete che quando si consegna completamente la madonna come gesto di devozione si può volontariamente aggiungere al proprio nome il nome di Maria però è una cosa devozionale e personale no io non mi chiamo così a questo titolo ma perché al battesimo io sono Leonardo Enrico Maria Pompei al comune no ma al battesimo sì quindi Maria Leonardo Maria è il mio nome di battesimo devo ringraziare mia madre perché me l'ha detto lei prima che morisse che lei volle fortissimamente aggiungere il nome Maria al mio nome di Leonardo che accanto pare scelse mio padre cioè mio padre si era fissato mi doveva chiamare forse Leonardo quindi mia madre ha ceduto su Leonardo però il secondo il terzo nome l'ha scelti lei dovrebbe essere andata così la questione ma tanto non importa niente a nessuno comunque la cosa importante è che chi sta ancora in condizione di averci figli è nel battesimo anche se l'avete registrato con nome e cognome normale come è successo con me e mettigli un altro nome altri due sono tutti quanti i santi che gli sono di esempio e produttore nella vita di cristiano io non sapevo che Sant'Enrico è stato un santissimo imperatore cristiano e tra l'altro cosa che mi ha riempito di gioia ha vissuto il matrimonio bianco uno dei rarissimi casi nella storia della chiesa perché l'ha sposata Santa Ponegonda e non hanno mai avuto rapporti questo è Sant'Enrico oltre a tutto il resto quindi per me che per grazia di Dio e sono la persona più felice dell'universo solo per questo che ho conservato la santissima e sacrissima verginità sapere che tra i miei patroni c'è l'imperatore che si è sposato ed è rimasto vergine pure nel matrimonio insomma e poi c'è la regina dei vergini d'accordo quindi e poi c'è San Leonardo da Porto Maurizio che è il santo che è Leonardo a me diciamo più che mi sento più vicino insomma un grande predicatore un francescano super doc apostolo delle crucis insomma è bello no? o che te chiami che ne so Cristel forse esisterà pure questa Santa Cristela adesso non lo so stanno un sacco di nomi strani che ne so selvaggia io non sono sicuro che esista Santa Selvaggia però a volte quando sento un po' un nome Evelyn esiste Santa Evelyn oh e diamo un po' dei nomi dei santi cristiani ci sono tante belle figure di santi cristiani no? io quando ero a Borgo San Michele facevamo una cosa bella per contrasto a Halloween facciamo la festa dei santi il 31 se quei ragazzini e il compito di ogni ragazzino si deve vestire da un santo e doveva portare durante sta festicciola in maschera da santi però perché carnevale no ma vestiti da santi sì ma vestivo pure io stanno le foto che sono rigorosamente riservate l'ho tolte da tutti quanti i siti ma vestivo pure io e ognuno doveva portare la storia del santo da cui era vestito era bellissimo chi riceve il battesimo a che cosa si obbliga chi riceve il battesimo diventando cristiano si obbliga a professare la fede con la F maiuscola e ad osservare la legge di Gesù Cristo perciò rinuncia a quanto vi si oppone la vita del battesimo è una vita di rinuncia e adesso vedremo a che cosa si rinuncia 298 a che cosa si rinuncia al demonio alle sue opere e alle sue pompe così veniva chiamato nel vetusor le pompe non vediamo che cosa sono dice che cosa si intende per opere e pompe del demonio per opere e pompe del demonio si intende anzitutto i peccati perché le opere di Satana sono i peccati e le pompe le cose che cose che è pomposa quindi è un allettamento sono le vanità del mondo le sue massime perverse è contrario al Vangelo la vita cristiana è fatta di rinunce dice ma io non ce la faccio a rinunciare ai piaceri sessuali fattene una ragione la vita cristiana è una vita di rinuncia io dico sempre per un cristiano amici miei cari l'argomento chiamiamolo sessualità nella sua declinazione migliore non esiste a meno che non si apra questa porta all'interno del sacramento del matrimonio se no si campa nel mondo come se questa cosa non esistesse ma c'è certo che c'è lo sappiamo bene che c'è ma non per me a meno che il nostro Signore non mi chiamerà nel matrimonio a viverla santamente per collaborare con lui nella trasmissione della vita e redimerla trasformandola anche con l'aiuto della grazia in un linguaggio di unione con il mio coniuge sempre garbato e umano mai sfrenato e animalesco se no non c'è perché la vita cristiana è una vita di rinunce di rinunce concrete questa è una delle tante andare in giro vestito in un certo non lo faccio perché io rinuncio alle mode non mi interessano rinuncio alla droga rinuncio alla discoteca d'accordo rinuncio ad andare in spiaggia in un certo modo scusate alcune rinunce oggi sono forzate sapete a me personalmente io sono sacerdote d'estate mi prendo qualche giorno di riposo ma che pensate a me piace tantissimo il mare quando ero giovane ma non ci posso andare non ci posso andare non è che non ci voglio andare e non ci vado proprio per forza perché non è posto adatto per me perché è impossibile andare al mare adesso è praticamente impossibile senza sporcarsi almeno un pochino gli occhi è impossibile la corruzione della società mi ha reso la vita impossibile e non lo posso fare non lo faccio volentieri ma non lo posso fare da che forza ce la facciamo finire i bambini nel battesimo come rinunziano al demonio attraverso i padrini 300 e chi sono i padrini nel battesimo altro argomento qui i padrini nel battesimo sono quelli che presentano la chiesa il battezzando rispondono in suo nome se è bambino assumendosi quali padri spirituali la cura della sua educazione cristiana se vi mancassero i genitori e perciò devono essere buoni cristiani a oggi non vi dico le commedie grazie a Dio quindi il vescovo continua a dare indicazioni chiare perché oggi tra padrine e madrine buoni cristiani pensiamo un po' è un miracolo quando si riesce a trovare persone che buoni cristiani non sono ma che almeno non stanno in condizioni totalmente incompatibili formalmente incompatibili chi si assume l'incarico di padrino chi l'accetta stia attento senza essere un buon cristiano pecca mortalmente chi chiede di fare il padrino la madrina di una persona che sa bene non essere un buon cristiano pecca mortalmente un parroco oggi non si può mettere a fare la terza guerra mondiale deve esortare i genitori deve mettere una barriera alle situazioni di pubblica conoscenza divorziati risposati conviventi eccetera eccetera non possono fare da padrino di battesi e non si transige anche se molti li fanno fare oltre a questo non si può andare ma sappiano i genitori che li scelgono e i candidati che li accettano che si devono confessare perché il padrino va scelto tra persone adatte e se manca qualcuno lo fanno i nonni ti inventi qualcosa o chiedi al parroco mandiamo un catechista un bravo cristiano perché non ci sta nelle persone che conosco uno che può fare da padrino che si è degnito questo nome siamo noi obbligati a mantenere le promesse e le renunzie fatte da padrino a nome nostro nel battesimo sì siamo obbligati a mantenere le promesse e le renunzie fatte da padrino a nome nostro nel battesimo perché se ci impongono solo quello che Dio impone a tutti e che dovremmo noi stessi promettere per salvarci pensa un po' che grande parte c'ha bisogno di commento una cosa del genere infine sforiamo di qualche minuto però così facciamo un discorso compiuto sul battesimo speriamo di qualche minuto perché qui c'è l'ultimo argomento caliente i genitori o chi ne tiene il luogo quando debbono mandare il bambino al battesimo risposta non più tardi di 8 o 10 giorni anzi conviene assicurargli subito la grazia e la felicità eterna potendo egli molto facilmente morire quindi 8-10 giorni secondo il catechismo di San Pio X oggi chiaramente messo nel dimenticatoio però diceva così poi alla nostra coscienza chi vogliamo sta da retta 8-10 giorni non 8-10 mesi è però il pranzo è però il ristorante è però il padrino sta a Milano e può venire soltanto a maggio ognuno si assume le responsabilità delle scelte che fa i genitori fanno male a procrastinare il battesimo io credo che San Pio X non avrebbe avuto difficoltà a dire che non solo che fanno male ma fanno peccato a fare questa cosa qui io la ritengo una dei tanti segni della totale perdita di fede perché un genitore che c'è ma sai a me che me ne importa io ho avuto gente capite abitante non faccio adesso a 600 km dalla sede della mia parrocchia che mi conosceva che hanno fatto il parto cesareo e che sono usciti dall'ospedale si sono messi in macchina il giorno dopo stavano a ricevere il battesimo nella mia parrocchia perché avevano capito alcune cose senza che gliene importasse niente di padre madre invitati eccetera altre volte a qualcuno ti dico senti stando troppo lontani perché lì potremmo soltanto il padre e la madre perché come trasferisse una famiglia intera vengo io se ci tieni che lo faccio vengo io vengo io se ci tieni che lo faccia io più presto possibile vengo io e l'ho fatto due o tre volte sicure ma adesso due sicure sono andato io meditiamo meditiamo questo è soltanto il battesimo il resto poi lo vedremo avanti i sacramenti figlioli miei cari i sacramenti sono l'attuazione l'attualizzazione della salvezza costata al nostro signore sangue tanto sangue tanti dolori e tutte le lacrime della madonna metterseli sotto i piedi oppure usarli in un certo modo è proprio inqualificabilmente vergognoso mi raccomando chi ascolta queste cose per quanto può non tanto per il megafono ma per la fonte da cui vengono ci pensi un po' e cerchi di metterle in pratica che Dio vi benedica e la madonna sempre vi protegga grazie a tutti